Rasty James, svegliati. Dai, che vuoi? Accidenti, che ore sono? Su, manca un quarto alle dieci. Io devo, è tardi, devo menare biffa alle dieci. Il nostro canale è un festival. qui è molto interessante perché è sui cinema, non sui negozi, non sui lavoratori sui film e sono molto felice di essere qui con Antonio Monda, un amico amico e anche di presentare l'unico film che ho direttato magari il primo, magari ci saranno più quindi è molto bello essere qui in Napoli, è anche una città che è una città fascinante Rusty James before Cox ti cerca, Rusty James e chi si nasconde? va dicendo che ti ammazza, Rusty James non credo che ci riesce ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.